Devo vedere, devo confrontare visore grande, uno che si qua lcd o al plasma o red, ma qual'è la differenza? Luca, il red è meglio dell'lcd? Si, si. Comunque uno grande perché per vedere le partite dei mondiali, noi non ci condiamo. Io calcio, non è che seguo molto il calcio, però almeno i mondiali. Dove si fanno i mondiali? Dove si fanno i mondiali Luca? Dove si fanno i mondiali? Eh, da Sud America. Sud America? Sud America. Sud America. Sud America. Quindi gli orari saranno sfasati, spesso a noi. C'è il fuso orario. Si. Quanto è di fuso? Quanto è la differenza di orario con Sud America? 21, 21. 20? Ua, 20. Vabbè, quindi è quasi il giorno dopo che lo vediamo. Che cavolo. Quindi quando fanno i partiti, noi li abbiamo... Vi vediamo i partiti e già sono finiti. L'Italia sta nel girone. Con chi deve giocare? Belgio o Romania? Con chi deve giocare? Belgio o Romania? Eh? Con chi deve giocare l'Italia? Con la Roma. Con la Roma? No. L'Italia-Roma. L'Italia-Roma. E' il Mondiale. E' il Totti poi. Non giocare nella Roma. Con chi gioca Totti? Con l'Italia e con la Roma. Eh? Il Totti poi con chi gioca? Con l'Italia e con la Roma. Eh? Un po' e un po'. Un po' e un po'. Un po' e un po'? Un po' e un po'? Ah, primo tempo... Ma tu te li vedi i Mondiali? Li vedi i Mondiali tu? Hm? I Mondiali te li vedi? Eh, ogni giorno. Ogni giorno. IndicCD E' un po' e un po' e un po' e un po' En cat кат PurälitIe C'est un po' e Grazie.